Buongiorno, buon sabato, il 28 di settembre, bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito con le prime pagine regionali, già vedete alle mie spalle il centro nella edizione di Pescara. E allora il titolo di apertura, eccolo qui, classico, 910 ragazzi senza scuola, lavori d'urgenza per tre settimane, studenti costretti al trasloco per quanto riguarda il capologo adriatico. Andiamo a vedere nelle cronache, troviamo la politica regionale, il Movimento 5 Stelle, patto Marcozzi-Pettinari, accordo 5 Stelle per il candidato governatore. Mentre i pentastellati si preparano al ballottaggio delle regionarie tra Sara Marcozzi e Marco Cipolletti, i più votati in provincia di Chieti e Teramo, Domenico Pettinari, il più votato in provincia di Pescara, ha firmato un patto di desistenza con la capogruppo Marcozzi, in base al quale rinuncerebbe a correre al ballottaggio in cambio della vicepresidenza della regione e di due deleghe pesanti come bilancio e sanità. Andiamo avanti poi con la cronaca, blitz in garage, sequestrate, quattro auto rubate da parte dei carabinieri di Pescara. Spoltore Doberman ferisce al volto la sua padrona. E ancora, madre e figlia muoiono nello schianto a Vezzano, vittime due donne di capistrello ferite, una coppia e la loro bimba. Andiamo a vedere le altre notizie. Nel taglio basso, bimbo morso da una vipera, era in campagna col papà trasferito alle gemelli di Roma. Ma il fatto è accaduto mercoledì sull'altopiano delle Cinque Miglia, dove il bambino residente a Roccaraso si trovava appunto con il padre. E poi ancora a Bruzzo, settore modo, obiettivo crescita per 5.000 imprese. Ad Avezano la Il Foundry, licenze a 56 precari via WhatsApp. Andiamo a vedere i richiami dal nazionale. Partiamo dal taglio alto, dove c'è la foto del ministro Salvini, indagato a Palermo. Salvini sfida i magistrati, io sono stato eletto, voi no. E poi ancora di spalla lo Sport con la Nations League. Entra a chiese e rianima l'Italia e pari con la Polonia nella partita disputata ieri al Dallara di Bologna. E poi per il calcio dei dilettanti le pagine sui calendari di prima e seconda categoria. A centropagina ancora lo Sport con la Serie B. Il difensore in redazione insieme al portiere Galante, Gravion, adoro pescare. Sogno di diventare il nuovo Turam. Andiamo avanti con il centro. Cambiamo edizione, questa è l'edizione teatina. Il titolo di apertura superiori in 5.000 pronti al rientro nelle classi. Studenti già in aula al Galliani d'Esterlich, l'artistico al Ciapi dal 17. Le altre notizie a Pretoro per quanto riguarda il lavoro. Lazzaroni spunta il piano anti-chiusura con i lavoratori che da qualche giorno sono in sciopero. E poi a Lanciano multe auto non pagate. Raffica di avvisi. Andiamo a vedere anche la notizia di centropagina. Francavilla al mare, progetto Terra Amica. Sei mercati contadini per riportare in città i sapori nostrani. Questo per quanto riguarda la prima pagina dell'edizione teatina. Passiamo su quella teramana, sempre sul quotidiano. Il centro in apertura, teatro a rischio, la stagione unica. Teramo, ACS e Ricitelli non hanno ancora perfezionato l'accordo. Dunque si replicano le problematiche che si sono già avute nella passata stagione teatrale. Le altre notizie, i dati Arta sul mare, fiumi Tordino, Maglia Nera, bene il Vibrata. E poi l'inaugurazione a Tortoreto Alto, la prima scuola materna. A centropagina andiamo a vedere il caso dei rimborsi in ritardo. La protesta dei dializzati sotto l'ASL che chiedono rispetto. Andiamo avanti con l'edizione aquilana del centro. In apertura, schianto fatale per madre e figlia. Tragedia sulla superstrada. Le donne tornavano a Capistrello, ferite tre persone. Qui vedete la fotografia della Fiat Panda distrutta e nel tondo le due vittime, madre e figlia, che viaggiavano appunto sulla autovettura. Le altre notizie, dall'Aquila, giovane romeno o violentato una ragazza, si è autodenunciato. E poi sul Mona, allievi IT, Marelli assume cinque neodiplomati del polo fermi. Altra notizia, sotto la fotografia Paganica, chiuso il ponte sul Raiale. Il sindaco Biondi, pericoloso per la pubblica incolumità, va demolito e ricostruito. Cambiamo testata, adesso passiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. In apertura alla cronaca, incidente morte madre e figlia, per quanto riguarda appunto l'incidente che abbiamo già visto in precedenza. Vezzano frontale tra due auto sulla superstrada dell'Iri, all'ingresso di una galleria. Natalina Palleschi e Martina Bucci, 55 e 29 anni, di Capistrello, sono le vittime, tre invece i feriti. E poi, per quanto riguarda invece il Mastro Giurato, si dimette il presidente Lanciano. La bomba, che non ti aspetti, è arrivata sotto forma delle dimissioni di Danilo Marfisi, da presidente dell'associazione Il Mastro Giurato, nel pieno delle celebrazioni, delle feste del settembre lancianese. Oggi ci sarà il dono alla Madonna del Ponte. Andiamo adesso a centropagina, furgoni blindati per l'assalto a un portavalori. I carabinieri trovano due mezzi modificati durante un controllo di routine all'interno di un garage. E poi, a centropagina ancora, le elezioni manifestano oggi Lega Forza Italia, azione politica, protesta sotto la regione per il voto subito alle 16 davanti all'emiciclo. Dunque, andrà in scena una manifestazione proposta dalla Lega per votare subito a novembre. Andiamo a vedere adesso di spalla il rischio frane. Dal governo arrivano 6,5 milioni di euro. Sarà possibile finanziare interventi che sono canteriabili a breve. Nel taglio basso a Castiglione, isolato il santuario del Beato Nunzio. Nel taglio alto, come sempre le altre notizie, moto e bellezza. Iannone entra nella giuria di Miss Italia, Belen non c'è. Poi atletica, mondiali master, Giulio Morelli vince l'oro nei 100 metri. E per il calcio, caos calendari tutto rinviato. Pescare e Teramo nel dubbio. Il CONI, infatti, ha fatto slittare alla prossima settimana la decisione sui ricorsi dei club. Fiorillo firma con il Delfino. Intanto, fino al 2022, salta la presentazione della Lega Pro. Passiamo alla città e completiamo così la carrellata sulle prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Il titolo di apertura del quotidiano della provincia di Teramo. Nessun colpevole per Mattia. ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte del ciclista di Bellante. Altre notizie. Tre ragazzi belgi tratti in salvo, dispersi all'avventura di notte sul Gran Sasso. E poi ancora scuole sicure. Un nuovo polo scolastico antisismico a Basciano. Sempre restando in tema, San Berardo riapre il piano chiuso a causa del terremoto. E ancora taglio del nastro per la scuola di Bellante Paese. Poi ancora troviamo il giallo di Giulianova. Indagini chiuse sulla morte della pittrice Renata Rapposelli. Figlio e marito unici possibili responsabili, secondo i magistrati. E poi ancora oggi il presidio per l'Ipersimpli. Il caso finisce in Parlamento. Nel taglio basso, stasera a Trani, la rosetana Anastasia Di Pietro in finale a Miss Grand Prix. E poi per la Lega Pro slitta ogni decisione sui calendari. Adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera che in apertura chiaramente parla dello scontro con i giudici e soprattutto tra il ministro Salvini e i magistrati di Palermo. Salvini 5 Stelle, scontro sui giudici. Caso 18, accusa di sequestro di persona. La replica in un video. A Enem e Legnini che è vicepresidente del CSM. L'ESA, l'indipendenza dei magistrati. Avviso di garanzia al ministro che attacca. Io eletto IPM no. Bonafede, il ministro della giustizia, dice. Sono toni da Seconda Repubblica. Il riferimento chiaramente è a Berlusconi. Andiamo a vedere poi anche l'editoriale firmato da Giovanni Bianconi. A colpi di slogan è il titolo della riflessione odierna. E poi, restando alla politica, troviamo anche il sondaggio PD al 17%, Forza Italia all'8,7%. Lega invece oltre il 33%, staccato il Movimento 5 Stelle. Questo emerge dagli ultimi sondaggi. A centro pagina troviamo la foto del cantatore Francesco De Gregori. Il tempo delle donne, felicità e il dolce cambiare. Andiamo a vedere sulla Repubblica il titolo di apertura. Salvini sfide IPM. Io eletto voi no, ma i 5 stelle così sei. Come Berlusconi. Show in diretta web sull'avviso di garanzia per la nave 18. Vogliono fermarmi? Per me è una medaglia. Spaccatura con Di Maio e Bonafede. I magistrati parlano di eversione. La preoccupazione del Quirinale. Poi ancora il commento firmato da Massimo Giannini. Una dottrina contro la democrazia. Si parla chiaramente delle parole di Salvini. Poi per l'economia. Ultimatum Unione Europea all'Italia. No, deficit non oltre l'1,6%. Tria promette nella manovra. I vincoli saranno rispettati. Poi c'è l'intervista al commissario Ettinger. Roma si fa male da sole e rischia di distruggere anche l'Europa. Nel taglio basso, dopo la riabilitazione, la sorpresa del Cavaliere ritira l'appello a Strasburgo per evitare una beffa politica. E poi la polemica. Vitalizi scoppia la battaglia. Faranno ricorso 700 ex deputati. I tagli sono incostituzionali. In realtà questa è una notizia che era già nell'aria da tempo da quando si sono ventilati i tagli ai Vitalizi. Andiamo sulla stampa. Adesso il titolo di apertura è sempre su Salvini. Che sfide PM scuote il governo? La Lega vuole la protesta in piazza. Apre l'avviso di garanzia in diretta Facebook. Vogliono fermarmi. La condanna di ANM e CSM. Il PD dice è eversivo il ministro indagato. Io votato dai cittadini magistrati no. Il Movimento 5 Stelle commenta. Peggio di Berlusconi. Ma Conte, il Premier, lo difende. E poi l'editoriale di Mattia Feltri. Il populismo va all'assalto dei giudici. A centropagina ecco il ponte disegnato da Renzo Piano pronto nel 2019. Vedete proprio gli schizzi del ponte. Il commissario Toti presenta il progetto del futuro viadotto che prenderà il posto del Morandi. Ma Di Maio dice non lo costruirà autostrade. Attesa per il decreto del governo. Andiamo sul fatto quotidiano adesso per vedere anche il titolo di apertura del giornale diretto da Marco Travaglio. Così da Maroni in poi la Lega fece sparire il bottino. In apertura dunque le carte dell'inchiesta breakfast della DIA di Reggio Calabria. Le manovre sui soldi. Vaffanbagno la risposta che i consulenti di partito davano a chi cercava i fondi scomparsi. E poi Nave 18 Salvini ha avvisato e invoca la piazza contro le procure. Bonafede parla chiaramente a commento. Difendo l'autonomia dei pubblici ministeri. L'Associazione Nazionale dei Magistrati legga la spazzaladri per quanto riguarda invece appunto la nuova legge anticorruzione. A centro pagina autostrade la mail notturna per scagionare la società Ponte Morandi dalla società di consulenza. Una lettera che assolve l'Aspi. Andiamo avanti con il manifesto. Il quotidiano comunista apre con la presentazione di ieri del progetto di Renzopiano sul nuovo ponte di Genova. Viaggiate sicuri, titolo ironico perché la D Castellucci ha battuto il plastico realizzato da Renzopiano per far vedere in maniera più chiara il suo progetto. C'è ancora autostrade al tavolo per la ricostruzione del ponte di Genova. Sono i concessionari, non si può escluderli, spiega il commissario e presidente della regione Luguria Toti. I ministri grillini non sanno come tenere fuori i benetton. Nel taglio alto, il caso Diciotti, Salvini attacca i magistrati, il ministro indagato per sequestro di persona aggravato. Passiamo sul sole 24 ore. Il titolo di apertura, eccolo qui, di Maio, resta Industria 4.0. Non siamo anti-impresa. Questa è l'apertura del principale quotidiano economico e finanziario italiano. L'intervista proprio al vicepremier, il taglio del cuneo e parte della riforma fiscale si farà. Torna anche la CIG straordinaria. Per l'Italia controllo pubblico, venture capital per PMI ad alto potenziale. Questo è il contenuto di alcune delle misure allo studio del governo. Sempre per quanto riguarda l'economia, in particolare l'Ecofin a Vienna, Unione Europea, gli impegni di Tria nella giusta direzione. Il ministro dell'economia sembra aver convinto i colleghi europei, Dombrovskis, il ministro ci ha rassicurato. Si tratta sul ponte fuori dal deficit. Andiamo a vedere il centropagina con l'intervista a Papa Francesco, realizzata dal direttore del sole 24 ore Gentili, che sta facendo discutere, che viene chiaramente ripresa anche oggi con le reazioni. Poi, lavoro e impresa, la sfida per un nuovo umanesimo dei produttori e l'immigrazione piano Marshall per l'Africa. La risposta dell'Europa è l'articolo firmato da Antonio Tajani. Nel taglio basso, le autostrade nel DNA di Atlantia, edizione pronta a sostenerla. L'intervista a Marco Patuano è accaduta una sciagura che non doveva accadere, qualcosa non ha funzionato. Così l'amministratore delegato della holding della famiglia Benetton, appunto Atlantia, che controlla autostrade. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico in apertura, scintille giallo-verdi in nome dell'agente Salvini rincara sui giudici, ma Di Maio lo frena. Il ministro accusato di sequestro aggravato, io sono eletto IPM, ANM, PD e Eversivo, fermato per ore. Gruppo di Eritrei della Diciotti. A centropagina poi nella fotografia anche la Svezia, ora è tentata dal sovranismo in crescita SD, ostile a migranti e Unione Europea. E poi l'annuncio insieme a Piano, autostrade e fincantieri, Genova-Ponte ricostruito entro il 2019. Sarà d'acciaio e resisterà mille anni, sarà come una nave e come Genova. Così ha presentato il suo progetto Renzo Piano. Andiamo sul messaggero, il quotidiano romano in apertura, Salvini indagato, scontro con il Movimento 5 Stelle, caso 18, il ministro dopo l'avviso per sequestro di persona aggravato, io eletto IPM, no, attenzione con le toghe, Bonafede vuole tornare alla Seconda Repubblica e a Berlusconi. Poi l'editoriale di Carlo Nordio, reati e ipocrisie, quella mano invisibile che guida i migranti. Ancora, restando sul caso Diciotti, dal centro di Rocca di Papa, identificati e rilasciati 16 profughi in fuga, il Viminale, linea dura, mai più casi simili. Andiamo a vedere anche il centropagina. Con la manovra nel 2020 sarà ridotta al 26%, la seconda liquota debito. Tria rassicura la Commissione, Moavero, il bilancio europeo, ora cambi. E poi ancora, centropagina, nuovo ponti in un anno, ne durerà mille. Qui vedete il plastico del progetto Fincantiere Autostrade, presentato ieri da Toti e Piano. Nel taglio basso troviamo una notizia che non abbiamo visto in precedenza. Maturità, sospeso l'obbligo delle prove in Valsi, rinviato di due anni, lo stesso per alternanza scuola-lavoro. Andiamo sul quotidiano Il Tempo. In apertura la Lega conquista pure il Sud. Siamo ai sondaggi, Salvini continua a crescere e arriva al 20% solo nel Meridione. Crolla Forza Italia, accalano i grillini e ora Matteo pensa alle elezioni anticipate. I PM lo indagano per la nave, volete fermarmi ma io sono eletto e voi no. Andiamo a vedere poi ancora sui migranti, profughi in nave. Ora quelli in fuga sono diventati 74, caccia agli evasi dal centro Baobab. A centro pagina il tempo di Oscio, allora ce l'hai per vizio, facendo ironia su quanto accaduto ieri nella presentazione del ponte. Autostrade fa crollare un altro ponte, la D rompe il plastico di Renzo Piano. Scendiamo ancora e vediamo un'altra notizia. Indagate 5 maestre per le botte ai bimbi dell'asilo, presunti maltrattamenti al nido papero giallo di Roma, i bambini schiaffeggiati, strattonati e chiusi nelle stanze. Su Libero adesso il titolo di apertura. Salvini, me ne frego, indagato per sequestro di persona aggravato dalla procura di Palermo che accusa il ministro di avere bloccato i clandestini della nave 18, metà dei quali già spariti. Lui replica, cari magistrati, io sono stato eletto e voi no, non mi fermo. Ma Di Maio gli volta le spalle rispettare le etoghe. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle. Otto pagine speciali con le firme di chi sostiene il leader leghista. Questo è l'endorsement del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Andiamo sulla verità. Salvini contro i giudici. Attacco politico e le assurdità della sentenza antilega per un ammanco di qualche migliaio di euro sequestrano 49 milioni i soldi non dello Stato ma del partito. In un caso analico alla Margherita furono ridati. Il carroccio non è a processo. Per la Corte europea non può essere punito. Il verdetto contro Bossi non è definitivo ma il danno è irreversibile. Il vice premier avviso di garanzia per sequestro. Questo è il punto diciamo sullo scontro in atto fra magistratura e Lega. Andiamo invece a vedere nella presentazione del nuovo ponte di Genova. Autostrade fa crollare anche il ponte di Piano. E uno dei consulenti indagati confessa la verità. A posteriori sul Morandi si poteva fare di più. Andiamo sul secolo d'Italia. Il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Guerra, Salvini, magistratura democratica. Questo è il titolo abbastanza eloquente che spiega anche la posizione del giornale. Poi in primo piano i migranti della Diciotti erano al Baobab di Roma. E poi Bolkestein, Blef, Lega 5 Stelle, bocciati tre emendamenti di Fratelli d'Italia. E ancora attenti al Duce di Iscurati e subito allarme rosso. Sul mattino di Napoli in apertura le inchieste del giornale. Fondi dell'Unione Europea, sgravi e cantieri. L'Italia non sa spendere. Investimenti fermi 150 miliardi già stanziati. Il flop del sisma bonus. Il ministro Lezzi, finanziamento europeo. E regole punitive per il Sud. E poi Salvini indagato. Io sono eletto e giudici no. Scontro con i 5 Stelle per quanto riguarda il caso Diciotti. Andiamo a leggere il punto di Bruno Vespa. Se tutti giocano a favore della Lega. L'articolo firmato da Bruno Vespa. E poi il dossier. Quei mille tesori della campagna costruiti su terreni a rischio frana. Andiamo a vedere adesso i quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Ieri sera si è giocata la prima partita della Nations League dell'Italia. Paris offerto con la Polonia 1-1 a Bologna. Azzurro pallido. Poca Italia. Ci salva Federico Chiesa. La nazionale delude per un'ora. E va sotto di un gol firmato da Zienischi. Poi si sveglia con i cambi. L'esterno viola determinante. Entra e si procura il rigore. Trasformato da Giorginio. Male, Balotelli e il centrocampo Mancini commenta. Testa giusta nel secondo tempo. Nel taglio alto il MotoGP di San Marino. Oggi Paul su Sky alle ore 14. Gran Ducati a Misano. Dovizioso vola. Dovi e Lorenzo davanti a tutti per tenere Marquez nel Mirino. Vale deluso. È stata una giornata difficile. Scendiamo e torniamo al calcio. Chiedira, Pianic, Matuidi a segno. Juve, palla al centro e gollo. Sono gli uomini di mezzo decisivi per l'Allegri. Sempre. E poi l'Inter, Riccardi. Tre fronti aperti. Argentina, Inter e Rinnovo. Vorrei dare l'esempio. Giorni importanti per l'attaccante. Altro attaccante, il Pipita. A caccia delle primo gol. Iguain ancora a digiuno al Milan. Sono tranquilli e ricordano Ibrahimovic. Nel taglio basso. Scontro tra FIGC e i club esclusi. Tormenti Serie B. Si torna a 22. Non si sa il verdetto. Si saprà lunedì. Il collegio di garanzie è spaccato. Ma sarebbe in vantaggio la soluzione larga. Passiamo sul Corriere dello Sport. Anche qui in apertura la Nations League. L'Italia debutta con un pareggio 1-1 contro la Polonia. Abbiamo Fede. I due Federico, Chiese e Bernardeschi sono la vivacità della Nazionale di Mancini. Giorginio su rigore risponde a Sielischi. Male Balotelli, Gagliardini e lo stesso Giorginio che migliora un po' nella ripresa. Poi Milan, Fabregas. Questo è l'annuncio di mercato. Riparte la caccia allo spagnolo che ha il contratto in scadenza col Chelsea. Potrebbe arrivare a gennaio ma Leonardo non si ferma e è in corsa per Paquetà. E poi torna Goulam al Napoli. Si era infortunato nel novembre dello scorso anno. Ancora la MotoGP dove un missile Misano si scalda. Ducati davanti a tutti nelle libere. Vale dietro. Oggi la Pol in diretta su Sky e TV8. Per quanto riguarda invece la Serie B, nessuna decisione sul campionato. Lunedì si saprà se torna a 22 oppure se rimane a 19 squadre. Andiamo su Tutto Sport e completiamo così anche la lettura dei quotidiani nazionali sportivi. Ci vediamo per Pogba. La Raiole e la Juve fissano l'appuntamento. La gente e Marotta devono incontrarsi per il futuro di Chien. Ma trattano il campione del mondo ormai separato in casa al Manchester United. I bianconeri vogliono anticipare Barcellona e Paris Saint-Germain. Nel taglio alto Chiesa sveglia l'Italia. Nations League, Polonia avanti. Poi entrano il Viola e Belotti e danno la scossa. Da loro nasce il rigore che porta al pareggio l'Italia. Belotti sempre, Balotelli non più, è l'opinione di Xavier Iacobelli. E poi ancora Petracchi, Mazzarri ha il letoro che voleva, così il DS del Torino. E poi ripescaggi di B, la B a 22. Lunedì ci sarà il verdetto. Intanto slittano i calendari di Serie C. Per la MotoGP, Marquez Hamilton, fonte di ispirazione. Intervista esclusiva al campione. Questo era anche l'ultimo titolo per la nostra prima parte di rassegna. Adesso il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per andare a vedere insieme le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Andiamo ad aprire, come detto, le pagine interne dei quotidiani abruzzesi con le notizie dalla nostra regione. Il centro propone una doppia pagina in primo piano sulla economia partendo dalla pagella di Mudis sui conti della regione. Il debito della regione è gestibile ma incombe il rischio Italia. L'agenzia di rating promuove con riserva i conti dell'ente bene il risanamento della sanità ma il peso dell'indebitamento è ancora alto. Paolo ci commenta una conferma della nostra strategia. Ancora nel taglio basso il turismo punta sulla Germania. ha presentato un piano di promozione della regione per i vacanzieri tedeschi accordo con il tour operator studio Suss Gruppenraizen. Previste campagne sui periodici Stern e Der Spiegel. Poi i dati dell'arta sull'alga tossica migliora la situazione nel Chietino. Andiamo a vedere ancora la seconda pagina sull'economia. L'economia del tessile, i numeri della moda, obiettivo crescita per oltre 5.000 imprese. Il distretto abruzzese dopo anni pui cerca di riguadagnare il terreno perduto. Sono 16.000 gli addetti in regione mentre a livello nazionale sono 904.000. In Italia il fatturato ammonta 112 miliardi secondo la Camera di Commercio di Milano. Nella nostra regione il 70% delle aziende è costituito da piccole attività artigianali. Di spalla alla cultura arrivano i soldi per bande e residenze artistiche. Poi nel taglio basso invece brutte notizie alla Health Foundry. Licenziati con un messaggio su WhatsApp a casa 56 precari dell'azienda di Avezzano. La FIOM mercoledì incontreremo l'azienda per il sindacato. Cambiare continuamente le maestranze peggiora la qualità del prodotto. Adesso andiamo a vedere la pagina Abruzzo sempre sul quotidiano Il Centro. Si parla chiaramente di politica verso le elezioni regionali. Patto Marcozzi-Pettinari sul governo a 5 stelle. Il consigliere pescarese è incaricato, scusate, incarico pesante in giunta regionale per ripagarlo del passo indietro nelle regionarie. Sabatini non ce la fa al voto per i propri viri. Intanto Forza Italia rilancia un'urne a novembre. La Lega scende in piazza chiedendo di ridare voce agli abruzzesi con un voto immediato. Poi ancora sempre sul tema delle elezioni regionarie 5 stelle. Il titolo del messaggero restano in due. Il voto è top secret. Marcozzi e Cipolletti alla conta finale per la candidatura. Il blog non pubblica le preferenze dei primi classificati. Non abbiamo voluto influenzare la scelta degli iscritti nel turno di spareggio. Questa è la motivazione. E poi ancora lo scontro e la protesta. Bisogna andare alle urne in autunno. La protesta della Lega oggi in regione. Prima di andare a vedere il servizio andiamo a vedere anche la pagina abruzzo della città. Movimento 5 stelle. Marcozzi senza avversari. Se si vota subito ballottaggio alle candidarie del 5 stelle. Il terramano Cipolletti sfavorito perché già candidato alle politiche. Il rischio, se si dovesse votare entro il 2018, come la legge impone, il Movimento 5 stelle chiede, a causa di una regola contenuta nel regolamento delle parlamentari grilline del gennaio scorso, il terramano Cipolletti non potrà sfidare la Marcozzi. E poi la fusione. Completiamo la pagina. Ottobre, prima assemblea costituente della Grande Pescara. Per i trasporti è assicurato il 99% dei servizi programmati. Tua risponde alla Filt CGL Abruzzo. Ma torniamo sulla politica e andiamo a vedere insieme il servizio proprio sul momento che stanno vivendo i partiti in vista delle elezioni regionali. Resta ancora un mistero la data delle elezioni regionali che secondo i rumors potrebbe essere prossima al Natale se non addirittura slittare i primi mesi del 2019. Nonostante la nebbia che avvolge il giorno del voto gli unici al momento a giocare a carte scoperte sono i grillini. Ieri infatti si è votato online per le regionarie bis dopo il flop del primo tentativo. La prossima settimana sarà ballottaggio tra Sara Marcozzi e Marco Cipolletti attivista terramano del Movimento. Proprio l'attuale consigliera regionale sottolinea come non ci siano spaccature nel Movimento che ha risposto con grande partecipazione. Fatemi dire che sono molto contenta di questo risultato sia per la partecipazione degli iscritti abruzzesi sia per il fatto che c'è stata una riconferma di una squadra che funziona. Non è soltanto chi ha primeggiato ma è di fatto una riconferma di una squadra composta da me, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi e tutti i nuovi candidati consiglieri che ne entreranno a far parte. Fiduciosa per il secondo turno? Assolutamente sì, siamo molto fiduciosi, siamo già al lavoro. Abbiamo dedicato gli ultimi cinque anni delle nostre vite a portare il Movimento 5 Stelle al governo di questa regione. Nelle centrosinistra invece si attende solo l'ufficializzazione della candidatura a governatore dell'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini. A meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe essere lui la figura di alto profilo sotto la quale raccogliere tutte le forze di centrosinistra dopo l'era d'Alfonso e le divisioni dell'ultimo periodo. Situazione magmatica invece nel centrodestra dove la Lega spinge per una candidatura alla presidenza in virtù della posizione di governo e del gradimento popolare che emerge dai sondaggi. Lega che domani sarà in piazza all'Aquila per chiedere il voto immediato. L'unità del centrodestra quindi sembra ancora in discussione anche se da Forza Italia auspicano una candidatura unitaria. Il coordinatore Nazario Pagano mi ha raccontato di un clima che si è disteso e si è rasserenato rispetto alle ultime settimane e noi continuiamo a credere nel valore dell'unità del centrodestra continuiamo a pensare che l'alleanza di governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle sia un incidente di percorso un mare necessario. Non crediamo che si sia trasformata in un'infatuazione che sia scoppiata addirittura una storia d'amore e ci auguriamo che anche Salvini la pensi come noi che anche gli amici della Lega la pensino come noi e che non vogliono privare questo territorio della possibilità di mettere in piedi un modello di buon governo fondato sulla capacità di chi amministra di essere concreto ed efficiente. Tutto ruota attorno ai nomi in una partita a scacchi giocata sulla tenuta del sistema nervoso dei partiti. Infatti sono tanti nomi in ballo per una candidatura nel centrodestra dal coordinatore leghista Bellachioma al forzista Di Stefano gradito alle civiche di Toto e Zelli fino al sindaco di Chiedi Umberto Di Primio che è pronto a dimettersi solo in caso di una investitura per Palazzo Centi. Chi è buono per tutte le stagioni per ogni poltrona non è buono per fare l'amministratore io credo che qui ci voglia grande chiarezza io ho dato la mia disponibilità già da un anno ad essere candidato come Presidente della Regione se ci sarà la confluenza sul mio nome innanzitutto del mio partito unito e poi di tutto il centrodestra unito allora io sono pronto a fare non il Presidente della Regione ma a fare bene il Presidente della Regione. Se ciò non fosse io continuerò a fare il sindaco perché non ho bisogno di un'altra poltrona faccio bene, credo, quello che quotidianamente mi ha richiesto dai miei cittadini cioè dedicarmi alla mia città tutti i nomi sono validi non dobbiamo fare una gradatoria dobbiamo scegliere il nome che mette insieme più soggetti possibili cioè il nome che ha la forza di dare ai cittadini la grande affidabilità di chi può amministrare e al mondo della politica e del civismo la forza di chi può tenere insieme tutte queste cose. Andiamo ad aprire ora le pagine di Pescara il centro propone una doppia sull'allarme sicurezza al rientro a scuola per quanto riguarda il classico di Pescara chiuso per lavori 910 studenti senza scuola cadono calcinacci dal soffitto ipotesi di Marzio o Tinozzi per ospitare le 39 classi e poi l'intervista a Donatella D'Amico la preside non ci saranno rinvii cantiere aperto anche domani e la promessa del presidente della provincia di Marco ce la faremo in tre settimane parte dell'edificio potrebbe tornare disponibile subito dice il presidente poi andiamo a vedere l'apertura sul messaggero anche qui si parla del caso del classico via il trasferimento delle classi il verdetto dei tecnici della provincia impone lavori urgenti dopo la scoperta di criticità statiche in alcuni solei dell'edificio oltre 900 studenti coinvolti nel piano di emergenza saranno ospitati provvisoriamente dalla Di Marzio Michetti l'ossidazione delle parti metalliche delle armature scoperta casualmente durante gli interventi di restauro dopo i danni del maltempo del 2017 intanto un pino crolla nel parcheggio sfiorato una strage in piazza Italia in centro a Pescara e poi ancora il bando delle periferie la carta dell'emendamento i deputati del PD puntano a recuperare i fondi congelati Marco Alessandrini alla manifestazione dei sindaci possiamo vedere anche questo servizio i cittadini si aspettavano un governo del cambiamento hanno trovato un governo della rapina hanno rapinato fondi già stanziati dai governi Renzi e Gentiloni a favore di 96 città in Italia tra cui Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo per Pescara parliamo di 18 milioni di euro che sarebbero intervenute nei luoghi di maggiore disagio della città come i progetti messi in campo dall'amministrazione comunale tutti cancellati con un emendamento noi alla Camera abbiamo presentato io e la collega Pezzopane solo il gruppo del PD e su questo vorrò anche dire gli emendamenti per abrogare la norma non solo la norma che cancella i fondi in Italia ma anche per ripristinare i singoli interventi quindi c'è un emendamento che oggi presentiamo su Chieti un emendamento su Pescara un emendamento su Teramo un emendamento su L'Aquila parliamo di circa 60 milioni complessivi di cui 18 solo nel comune di Pescara se l'emendamento che si discuterà in Commissione Bilancio lunedì sarà bocciato noi lo ripresenteremo puntualmente alla Camera a meno che il Governo decida di mettere la fiducia a quel punto decadono tutti gli emendamenti faremo chiaramente battaglia io martedì prenderò la parola al nome del gruppo nella discussione generale difenderò le prerogative della nostra Regione il problema è l'imbarazzante silenzio del Movimento 5 Stelle della Lega in Abruzzo la complicità invece a Roma ma permettetemi di dire anche Forza Italia Forza Italia non parla in Abruzzo Fratelli d'Italia non parla in Abruzzo nonostante hanno un sindaco Fratelli d'Italia all'Aquila Forza Italia a Chieti che sono stati anche loro scippati dei loro fondi non parlano in ragione di una possibile alleanza con la Lega cioè si vendono l'Abruzzo per tentare di vincere l'elezione regionale è una cosa drammatica ma è accaduta che non c'entra nulla con la dignità della politica andiamo avanti sul messaggero cambiamo pagina la cronaca due furgoni pronti per rapine in serie la scoperta dei carabinieri manda a monte il piano per gli assalti ai portavalori denunciati custodi dei mezzi blindati e modificati per assomigliare in tutto a quelli usati dagli istituti di vigilanza erano stati rubati nel maggio scorso tutto pronto per un'operazione imminente i carabinieri sulle tracce degli specialisti del settore poi ancora effetto Bronx un cadavere a Rancitelli giallo della telefonata bufala l'autore accusato di procurato allarme si sospetta un diversivo per coprire un crimine in corso completiamo la lettura delle pagine di Pescara sul messaggero Santo Nunzio si è fermato a Castiglione un ponte pericolante rende praticamente irraggiungibili il santuario e il paese del beato alla vigilia della canonizzazione la viabilità alternativa fra strettoie e case antiche pericolosa per residenti e bus di pellegrini che spesso finiscono in trappola torniamo sul centro andiamo a vedere il caso Mense a Pescara via libera al pasto portato da casa la proposta avanzata da 200 genitori trova il consenso di preside comune ma sarà attivata anche la refezione pubblica il blitz che abbiamo visto anche in precedenza sequestrati quattro mezzi rubati servivano per una rapina trovati in un garage dai carabinieri di Pescara nel corso di una ispezione e poi calcinacci dall'asse l'ANAS sui viadotti controlli costanti furgone colpito sul raccordo scusate subito le verifiche dei tecnici nessun rischio il ponte è perfettamente statico e stabile e poi l'albero caduto in Piazza Italia nessun ferito l'area messa in sicurezza dai vigili del fuoco e dalla municipale nelle pagine di Montesilvano lo scontro con i commercianti non chiediamo la luna ma impegno a riqualificare la Confesercenti sollecita il confronto con l'amministrazione comunale Tauci dice abbiamo tutti bisogno di guardare al domani con ottimismo e poi al via i lavori antiallagamento in via Emilia l'assessore fumo opere realizzate in concertazione con gli enti che gestiscono i servizi idrici nella pagina successiva ricoverata in stato di shock spoltore donna azzannata al volto dal proprio Doberman nella pagina successiva quella della Val Pescara la pioggia non ferma le ricerche del turista neanche una traccia però si è trovata a Caramanico quarto giorno di mobilitazione per fatti bene il vice sindaco finché è possibile continuiamo a cercare scendiamo nella pagina servizi ai disabili rispettate le promesse appenne le speranze delle famiglie dopo le battaglie dei mesi scorsi si decide anche per i midorenni e poi ancora penne dal Lussemburgo i fondi per le sale del centro sociale passiamo adesso invece a vedere le pagine di Chieti ancora sul centro riapertura delle scuole superiori 4.900 studenti pronti al rientro in classe al tecnico Gagliani Desterli che le lezioni iniziate mercoledì scorso negli altri istituti invece si ricomincia dopo domani dice artistico coreutico la preside riepriamo al Ciapi grazie a uno sforzo congiunto e nel taglio basso e in via Bosio è sparito l'amianto ieri la riconsegna dell'edificio dopo la sostituzione del pavimento in Eternit pagina successiva andiamo a Pretoro Vertenza Lazzaroni nuova fabbrica per evitare i trasferimenti la regione alla ricerca di un sito in cui ospitare la linea di produzione Lolli chiedo all'Arap se c'è la disponibilità di un impianto utile all'azienda e per l'edilizia scolastica Caramanico Guardia Grele fuori dai fondi per il 2018 a Lanciano in arrivo 4.800 avvisi per le multe non pagate e poi in Val di Sangro ex Blutec si all'assunzione di 42 precari si è chiusa l'avvertenza accolte le richieste di lavoratori e sindacati saranno pagati gli stipendi arretrati ancora la pagina successiva di Chieti e Provincia il Tar chiude il centro di raccolta rifiuti ad Ortona i giudici accolgono il ricorso di alcuni genitori per la vicinanza dell'impianto alla scuola di Fonte Grande andiamo ad aprire la doppia pagina di Chieti sul messaggero anche qui in apertura si parla di scuole sulle scuole investite 10 milioni via Bosio riapre dopo la bonifica ieri la riconsegna l'inaugurazione del plesso il sindaco di primio esempio di collaborazione l'assessore Gian Pietro ripartono tutti i servizi lunedì si torna nelle aule al momento non si segnalano criticità il bando delle periferie abbiamo visto in precedenza già d'Alessandro gridare alla rapina da parte del governo e poi nella pagina successiva niente contributi Marfisi si dimette l'addio del presidente dell'associazione il mastro giurato dopo 19 anni accusa la regione di non aver versato un euro lasciati soli di fronte i fornitori alle esposizioni bancarie con la promessa di ricevere 150 mila euro onoriamo gli impegni così il presidente che si è dimesso subito dopo la rappresentazione la rivocazione storica del mastro giurato di domenica 2 di settembre Sanzificio Vecere di Treglio il Tar ha detto no al ricorso per completare questa ricognizione anche sulle pagine di Chieti torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire adesso le pagine terramane la gestione del comunale teatro accordo cercasi c'è poco tempo trattativa ancora aperta fra Riccitelli e ACS sul cartellone unico d'Alberto il sindaco dice vogliamo una stagione di prosa di qualità va garantito rispetto delle clausole della convenzione per le 25 giornate in cui l'uso della sala è riservato al comune così il primo cittadino e poi Arsita dalla cittadinanza onoraria la scrittrice di Pez Antonio è nata e cresciuta nel comune ma vive appena lunedì in piazza la cerimonia durante un consiglio straordinario nel taglio basso chiude l'Ipersimpli a rischio 5 negozi alle attività attigue al supermercato è concesso di rimanere fino a marzo oggi sciopero e presidio nella pagina successiva l'inquinamento del mare con i dati dell'Arta vibrata rinato maglia nera al Tordino il torrente quest'estate non ha causato sforamenti dei limiti il fiume ne ha provocati 7 sui 10 complessivi ancora a Basciano una scuola sicura a Bellante invece oggi inaugura la sua per quanto riguarda i progetti del dopo terremoto e poi ancora ripresi i giovani che l'hanno sistemata trappola per motociclisti a Giulianova nella pagina successiva andiamo a Silvi dal consiglio stop al segretario condiviso con Pineto il centro-sinistra contesta la decisione della maggioranza ci saranno costi in più e non sono stati ancora valutati andiamo sulle pagine di Teramo del messaggero eccole qui si riparte dall'avvertenza i persimpli chiuderà il 30 sciopero e caso che arriva in Parlamento i 53 addetti perdono il posto di lavoro nella tradizionale struttura di piano d'accio Fratoianni scrive a Di Maio per chiedere misure sull'occupazione c'è un calo degli investimenti Enzo Balducci commenta una mano ce l'hanno data i turisti belgi figli di immigrati che tornano a casa e poi il sit-in dei dializzati parcheggi mancanti sit-in dei dializzati davanti alla ASL di Teramo nel taglio basso tre giovani escursionisti salvati nella notte da parte dei vigili del fuoco e poi l'Abruzzo alla conquista dei tedeschi l'apertura alla Germania in una nuova prospettiva di turismo illustrata all'Otello Europa di Giulianova dall'assessore D'Ignazio strategia mirata agli ultracinquantenni teutonici di concerto con studiosus gruppenraizen tra i più importanti tour operator scendiamo il vice sindaco non responsabili per quel palo in mezzo alla strada la vicenda del palo appunto nella strada di Roseto a colonia spiaggia e poi ancora andiamo a vedere il taglio basso riapre la scuola statale dell'infanzia 29 i bimbi scritti a Tortoreto e mortorio senza la musica lì di contro il piano acustico ad Alba Adriatica andiamo a vedere anche la città per le altre notizie dal Terramano l'incidente mortale nessun colpevole per la morte di mattia la procura chiede l'archiviazione delle indagini per omicidio stradale sull'automobilista Terramano primo proscioglimento la provincia era stata già esclusa dalle responsabilità sullo stato della provinciale 22 di Cologna paese nel taglio basso abbiamo già visto i dializzati terramani hanno diritto a rimborsi mensili non trimestrali ieri mattina si tina la sle di Teramo il sindaco scrive all'assessore regionale per adeguare gli assegni datati al 1998 e poi ancora dispersi nella notte all'avventura sul Gran Sasso telescursionisti belgi si perdono nell'ascesa al rifugio del monte scatta l'operazione di recupero l'interrogazione parlamentare sulla vicenda per Simpli sinistra italiana porterà il presidio di questa mattina all'attenzione del ministro Di Maio e poi ancora il rally nel parco si farà ma tutto elettrico dopo la bocciatura della gara inquinante prende piede quella tutta green del rally delle Abbazie ancora maltempo fulmine causa blackout a mezzo a San Nicolò squadra nella lavoro per ripristinare l'energia elettrica San Berardo riapre il primo piano due aule della scuola di Via Pepe erano state chiuse dopo le verifiche sismiche per quanto riguarda la riapertura dell'anno scolastico e ancora a Basciano nuovo polo antisismico l'amministrazione comunale ottiene un finanziamento da 2,7 milioni di euro dal piano triennale regionale andiamo anche a Bellante Paese taglio del nastro per la scuola materna ed elementare conclusi i lavori per l'edificio antisismico proseguiamo con la materna aperta a Tortoleto Paese il sindaco la nostra volontà è assicurare a tutti gli stessi servizi e diritti si cambia tenore invece sulla pagina che riguarda il giallo della pittrice Renata Rapposelli chiusa l'inchiesta sull'omicidio per la procura Simone Giuseppe Santoleri da marzo in carcere sono gli unici possibili responsabili del delitto per la procura il figlio e il marito della donna devono rispondere di omicidio ed occultamento di cadavere nella pagina successiva andiamo a Roseto la lettera del PD scuote la politica rosetana Roseto Alcento decretato il fallimento dell'amministrazione di Girolamo Simona Loisi altro che sfiducia abbiamo lodato il lavoro fatto e elencato gli altri obiettivi da raggiungere per quanto riguarda invece Silvi campi sportivi problema che parte da lontano si torna sulla polemica del caso scuole calcio risolto con un accordo riporta alla luce la carenza cronica di impianti andiamo a vedere anche le pagine dell'Aquila sul centro tragedia sulla superstrada madre e figlia muoiono nello schianto le donne tornavano a capistrello la giovane era commessa ad Avezzano ferite anche una coppia e la loro bimba di spalla i precedenti negli anni ha spezzato decine di vite quella strada poi ancora il commento sprendide e sorridenti comunità distrutta il sacerdote il sindaco Ciciotti ricordano Nicolina e Martina lutto cittadino nel giorno dei funerali andiamo avanti tragedia sfiorata Roccaraso bambino morso da una vipera e salvo era in campagna con il papà che gli ha prestato i primi soccorsi poi la corsa in ospedale e il trasferimento al Policlinico Gemelli a Roma e poi Romeno si accusa o stuperato una ragazza l'Aquila il giovane indagato anche di minacce alla donna per farle avere rapporti con un amico nel taglio basso Paganica ha chiuso ponte sul Raiale il sindaco dice pericoloso per la pubblica incolumità sarà demolito e ricostruito prima di passare allo sport completiamo le notizie dall'Aquilano andando a vedere le pagine sul messaggero in apertura bel vedere si accende lo scontro sul parcheggio pensato da Ater l'ex assessore di Stefano c'è la collina non serve abbattere l'edificio al Civico 29 l'azienda aveva paventato la costruzione di un multipiano al posto dell'immobile per il ponte serve un concorso di architettura che segni il tempo dice l'ex assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano il controbilancio ma sciocco attacca la perdonanza è costata il doppio nel taglio basso la giudiziaria Pitbull morda una bimba e scatta il processo il proprietario dovrà rispondere della mancata vigilanza dell'animale poi ancora Supermorelli l'Aquila è già mondiale il velocista vince i 100 metri del Master di Malaga bene anche nella batteria dei 200 domani la semifinale un successo che rappresenta un viatico per oggi pomeriggio la commissione deciderà se assegnare alla città l'edizione del 2022 andiamo adesso alle pagine di Sport anzi no scusate resta da vedere la pagina di Sulmona Superstrada killer morte madre e figlia è la notizia che abbiamo visto in precedenza l'incidente è avvenuto prima della galleria Montesalviano sul versante avezzanese della superstrada un appunto condotto da un uomo del Frusinate si è schiantata con la panda su cui viaggiavano le due donne tre altri feriti gravi come detto andiamo a vedere le pagine dello Sport restiamo sul messaggero l'apertura con il titolo eccola qui B come bagarre il caos continua campionato cadetto a 22 squadre forse con i ripescaggi tra lunedì e martedì tre i posti ma la corsa è a 5 con Siena Ternana Provercelli Catania e Novara nel frattempo Fiorillo firma con il Pescara e amore biancazzurro fino al 2022 completiamo la lettura delle pagine di sport sul messaggero con il basket Roseto aspetta il ritorno di Simonovic l'atleta è impegnato con la nazionale Montenegrina previsti salti di qualità le altre notizie Iannone giudice di Miss Italia sarà protagonista della serata condotta dalla Leotte Facchinetti il pilota Suzuki nato a vasto intanto e quinto nelle libere a Misano per il rugby le migliori Under 18 al Memorial Sebastiani per la Serie C tutto al diavolo salta la Serie C Vitale si riscatta l'ex Pescara doppio infortunio mi rimetto in gioco il terzino 32enne dopo due mesi in prova in bianco-rosso è stato tesserato dal Teramo andiamo a vedere adesso le pagine di sport sul quotidiano Il Centro il CONI con la decisione che slitta sui ripescaggi Serebilla tenelovela continua il presidente del collegio di garanzia Frattini non è serio prendere decisioni frettolose il provvedimento sul format a 19 e 22 squadre sarà ufficializzato entro la giornata di martedì e la Serie C rinvia la pubblicazione dei calendari prevista per oggi noi possiamo andare a vedere il servizio Un vero e proprio colpo di scena il collegio di garanzia del CONI fa slittare la sentenza su format della Serie B e ripescaggi a lunedì sera massimo martedì il primo effetto è anche lo slittamento dei calendari di Serie C previsti per questo sabato la giornata che avrebbe dovuto dipanare l'intricata matassa ha invece confermato lo stato di caos totale in cui verse il calcio italiano sempre più vittima di una guerra istituzionale che avrà il suo sbocco naturale nella elezione del nuovo presidente federale come previsto oggi a mezzogiorno nel salone d'onore del CONI al Foro Italico si è aperta l'udienza a sezioni unite del collegio di garanzia presieduto dall'ex ministro Franco Frattini diversi ricorsi da trattare nei dibattimenti che si sono chiusi dopo oltre tre ore e mezzo intorno alle 15.45 da quel momento il collegio giudicante si è ritirato in camera di consiglio e le prime indiscrezioni parlavano di un verdetto in procinto di essere messo in prima serata poco dopo le ore 20 ma subito dopo le 19 l'inatteso cambio di programma e l'annuncio dello slittamento delle sentenze decisione entro martedì prossimo motivo la tanta documentazione presentata e le ottime difese proposte dagli avvocati che hanno rappresentato le squadre io per primo non avevo un'idea che avevo maturato prima ha dichiarato il presidente del collegio di garanzia Frattini abbiamo ascoltato rifletteremo credo che tra lunedì sera massimo martedì mattina decideremo in via definitiva siamo giunti ad una conclusione di riflettere su tutti gli argomenti che le parti ci hanno presentato in tre ore e mezzo di discussione non sarebbe stato serio decidere in un'ora e mezzo ha aggiunto Frattini noi abbiamo valutato che domenica la B non gioca molto peggio sarebbe stato e il collegio mai lo avrebbe fatto decidere frettolosamente su una questione così delicata ha chiuso Frattini non si è fatta attendere allora la decisione della Lega Pro di far slittare a sua volta i calendari così la scarna nota apparsa sul sito ufficiale la Lega Pro preso atto della decisione del collegio di garanzia del CONI che slitta la prossima settimana suo malgrado si vede costretta a rimandare i calendari seguiranno comunicazioni sulla nuova data nei prossimi giorni ne consegue che al momento non si conosce la data per la definizione dei gironi e dei calendari di Serie C è allo Stato e a rischio anche l'avvio dello stesso campionato già riprogrammato per il weekend del 15-16 settembre tornando al dibattimento di oggi alcuni due erano i nodi cruciali acclarare la regolarità della delibera con cui il commissario della Federcalcio aveva riportato il format della B da 22 a 19 squadre e chiarire se Catania e Novara siano o meno squadre ripescabili come da sentenza di TFN e Corte Federale che avevano annullato l'illecito amministrativo quale motivo di esclusione dal ripescaggio pronunce contro le quali hanno fatto ricorso al Coni Ternana e Provercelli coi piemontesi difesi dall'avvocato abruzzese Flavia Tortorella tutto rimandato alla prossima settimana come detto ma l'arrivo speriamo delle sentenze non cancellerà una pagina assolutamente vergognosa che le istituzioni del calcio italiano stanno loro malgrado continuando a scrivere Rapidamente le altre notizie sul centro l'iniziativa del Pescara calcio e finanza Sebastiani Lancia e Pescara Bond serviranno per lo sviluppo del Poggio degli Olivi obiettivo è raggiungere 3 milioni e poi tutto il mondo di Graviglion mare bici e la Marsigliese la mia vita oltre il Pescara parla il difensore Biancazzurro e poi il mio sogno è diventato realtà il baby portiere galante 16 anni dall'under 17 la corte di Pilonne per la Serie C il Teramo le reazioni allo slittamento dei calendari altro rinvio è tutto assurdo si fa male al calcio così il presidente Campitelli tuona la misura è colma e arrivata a questo punto non si dovrebbe giocare per la Serie D domani in campo per la Coppa Italia oggi test test dell'Avezzano l'eccellenza Pontevo Manochieti sarà in streaming oggi alle 17 la prima diretta sul canale YouTube di Reteotto domani toccherà appenne Alba Adriatica andiamo sull'atletica gli assoluti di Pescara Palmisano si regala il tricolore per le nozze nella prima giornata la marciatrice vince la 10 km a due settimane dal matrimonio strano si impone nella maschile andiamo rapidamente anche sulla città per lo sport i calendari slittano anche il campionato il titolo interlocutorio del nostro collega Jacopo Forcella il collegio di garanzia non ha ancora deciso sui ricorsi Gravina sono davvero senza parole poi per il basket Teramo accordo a tre per il settore giovanile nel progetto legato ai giovani con i biancorossi protagonisti anche basketball Teramo e Penta basket questa era l'ultima notizia per la nostra rassegna io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina l'appuntamento con Mattino 6 e per lunedì alle ore 8 il nostro telegiornale invece come sempre oggi nelle tre edizioni alle 14 alle 19 e alle 23 è davvero tutto vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia